Un tempo erano le pizze a forma di pizza, le mode cambiano, i gusti si adeguano, l'impasto rimane lo stesso, ma il cliente, che ha sempre ragione, chiede di più. Che non sia per esempio solo salata, ma anche dolce. Prima la variabile era con la nutella, adesso c'è anche il gelato. A Barletta arrivano pizzaioli da un po' tutto il meridione, anche il mestiere si evolve. Chiamatela pure pizza gourmet, la farina rigorosamente integrale. Adesso si comincia a cambiare e dalle farine e dagli impasti, con poi abbinamenti successivi anche con gli ingredienti. E quindi magari cambiando anche un tipo di farina, un tipo di impasto, può sposarsi bene con un ingrediente. Nel nostro caso abbiamo usato per l'abbinamento sia dessert che gelato, abbiamo usato una farina integrale con un poco sale. Un prodotto che si è sposato bene, perché poi abbiamo ovviamente chiesto anche alla platea ed è piaciuto. Pezzi di pizza che sembrano biscotti e vengono serviti con il gelato, salato e dolce, non sono mai andati così d'accordo. Pizza e gelato sono sempre andati d'accordo, perché mentre in estate va il gelato, d'inverno la pizza, oggi è estate e inverno quasi tutto l'anno e dunque benvengano questi due abbinamenti. Un prodotto mono, diciamo una pizzeria, solo pizza, non vivrebbe molto a lungo, come così solo gelato. Dunque questi abbinamenti particolari permettono al consumatore di avere un servizio più completo, ma possibilmente da degustare 365 giorni all'anno.